ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a prendere in esame oggi è il capo stipite capo stipite perché si tratta del padre di tutti i diver la madre di tutti i diver vedete un po come volete siamo politically correct noi coi gender perché perché si tratta del primo orologio che ha utilizzato la ghiera girevole in funzione delle immersioni si tratta proprio del blanpan 50 fadoms orologio per il quale mi tocca scomodare il termine iconico un orologio iconico emblematico della storia dell'orologeria nel 1952 la marina francese creò un'unità di sommozzatori di elite chiamata neger de combat nell'equipaggiamento era previsto un orologio tecnico che servisse durante le immersioni ma non riuscirono a trovare in commercio un orologio adatto gli esemplari testati erano troppo piccoli illegibili sott'acqua o addirittura poco impermeabili fu così che si rivolsero a blanpan e nacque il 50 fadoms orologio d'elite per le forze d'elite della marina francese chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici che è partner del canale e concessionaria del marchio rivolgetevi a lui se avete bisogno di informazioni a riguardo di questo 50 fadoms simpaticissimo ora prima di guardare però l'orologio ve ne faccio vedere un altro ossia l'orologio del giorno che in questo caso è il mio squale 1959 heritage ossia un orologio che c'entra anche con il tema perché come sapete squale o squal come dire se voglia faceva le casse per blanpan per il 50 fadoms proprio le realizzavano loro questo qua il mio orologio estivo che ho al quale ho messo anche il cinturino in cuoio testa di moro realizzato dall'artigiano john kustrap che fa cinturini artigianali ed è partner del canale anche lui quindi un po di pubblicità gliela facciamo ho messo questo qua che l'ho utilizzato anche lo scorso anno al mare e in acqua ho deciso di utilizzare un cinturino in pelle in acqua e si è leggerissimamente scolorito facendo quell'effetto particolare che sembra quasi proprio vintage veramente e a me piace molto regge comunque regge con le sue belle impunture qua ottimo ottimo cinturino è ottimo orologio l'estate è entrata nel suo grosso e l'orologio al polso ci vuole diver giriamo la camera guardiamo l'orologio e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come di consueto con i risultati ottenuti dalle misurazioni diametro cassa 44.9 mm spessore 15.3 ingombro trasversale al polso 50.3 e passo cinturino da 23 mm un orologio di presenza un diver di quelli ingombranti che non ha bisogno di amicare agli appassionati proponendosi con misure alla moda oggi è massiccio e così vuole essere tutte le misure appaiono consistenti e non ci sono attenuanti sul polso appare bene evidente e spicca in tutta la sua imponenza nonostante ciò è secondo me adatto a qualsiasi tipologia di polso alla fine un diver deve essere anche così non ci si deve meravigliare se il lug to lug è eccessivo e sborda dal polso deve essere così chiaramente alla fine è il gusto personale di ognuno di noi a decretare se può andar bene e su quello non si discute stilisticamente parlando siamo di fronte al signor 50 fadoms orologio emblematico un'icona della storia dell'orologeria gli perdoniamo anche le finiture lucide della cassa non vi sono infatti superfici spazzolate e biselli di separazione ogni piano appare lucido e contiguo addirittura si sono permessi di incidere sprezzanti del pericolo la dicitura blanc pan sul lato carul dettaglio che avrebbe fatto gridare al kitsch su qualsiasi altro orologio e che invece riusciamo anche a perdonare al 50 fadoms personalmente avrete compreso non apprezzo completamente queste soluzioni avrei fatto a meno sia della scritta che delle superfici lucide allo stesso modo non mi pare particolarmente attraente neppure la superficie esterna della corona di carica qui troviamo in rilievo le iniziali del fondatore j e b ma si confondono con il lucido globale restituendoci una sensazione di confusione poco piacevole direte che mi sto focalizzando sui dettagli ma sono proprio quelli che devono fare la differenza ad onor del vero va detto che vi sono anche versione del 50 fadoms con differenti finiture e con spazzolature varie e che non è questo l'unico modello a rappresentare la stirpe il fondello ovviamente a vite e presenta anch'esso finitura lucida vi sono anche qui alcune incisioni che non fanno gridare al miracolo mi rendo conto che la recensione sta prendendo una brutta piega per l'orologio ma il tutto è chiaramente influenzato dal mio gusto personale e mi sento di esternare il mio parere tutt'altro discorso quando si passa al lato a inconfodibile il design della ghiera uno stile che negli anni ha influenzato decine e decine di case che hanno reinterpretato questa sorta di ciambella rigonfia scusate i termini ma credo che seppur in maniera quasi volgare ben riesca a descriverne la forma la profondità visiva che ci restituisce è dovuta al rivestimento in vetro zaffero antigraffio che va a proteggere l'inserto vero e proprio in questo modo il superluminova sottostante non rischia abrasioni e scalfiture da urti da segnalare che la presa non è particolarmente efficace in quanto la zigrinatura è piuttosto poco profonda una scelta che è dettata da voler mantenere il design storico che da sempre contraddistingue l'orologio questa mancanza viene però compensata dal fatto che la ghiera sporge di mezzo millimetro per lato rispetto alla cassa e quindi si riesce a ruotarla con estrema facilità ghiera zaffero che fa il paio con il trasparente leggermente bombato che sovrasta il quadrante su quest'ultimo non ho alcuna riserva riesco ad apprezzare ogni singolo dettaglio realizzato in primis l'altra dimensionalità che si viene a creare grazie ai differenti piani del quadrante anche se poco sfalsati e gli indici applicati in rilievo un insieme di elementi che acquisce la profondità visiva che viene poi impreziosita dai contorni metallici lucidati a specchio e poi c'è anche la simmetria nonostante sia presente la finestra data sono infatti i numeri arabi posti ai quarti a catturare l'attenzione dell'osservatore mentre il datario su sfondo nero si mimetizza bene tra ore 4 ed ore 5 senza andare a tagliare alcun indice certo messo così è poco più di un optional forse anche difficilmente leggibile ma è pur sempre un ottimo escavotage per salvare capra e cavoli mi sembra poi superfluo elogiare la leggibilità risulta palese come tutto il quadrante sia perfettamente comprensibile sia in condizioni diurne che in assenza di luce qui si vede chiaramente come tutti gli accenti necessari risultino perfettamente luminescenti anche tutti quelli presenti sulla ghiera cosa non sempre così scontata anche se non sempre necessaria sarebbero sufficienti gli accenti dei primi 15 minuti ma qui si è voluto essere completi sfera dei secondi compresa non ho ancora parlato del calibro che poi il fiore all'occhiello dell'orologio si tratta del calibro automatico 1315 di architettura proprietaria realizzato in casa che ha richiesto uno sviluppo di ben tre anni i freddi numeri ci dicono 227 componenti 28.800 alternanze orarie 35 rubini e ben 120 ore di riserva di carica quest'ultimo valore ottenuto grazie alla presenza di 23 bari letti di cui due in serie ma sono i dettagli a renderlo interessante come ad esempio il diametro dei rubini che è maggiore rispetto agli standard visti sulla maggior parte dei calibri oppure la spirale libera in silicio regolabile tramite quattro viti in oro poste sulla circonferenza del bilanciere occorre poi sottolineare che il rotore di carica presenta la parte terminale che viene appesantita grazie ad un inserto in carburo di tungsteno favorisce la velocità periferica e l'efficienza di carica ma una massa oscillante pesante tenderà ad usurare maggiormente l'albero sul quale è innestata ecco che se si osserva il movimento senza il rotore si può notare come l'albero sia realizzato in un mix di ceramica e acciaio indurito lucidato a specchio lo scopo è quello di aumentare la resistenza la longevità e ridurre l'attrito come si vede tutti i particolari che denotano grande cura per i dettagli e lo si vince anche dall'estrema cura con la quale si è proceduto alle decorazioni dei ponti e alla smussatura degli angoli anche quelli meno visibili ad occhio nudo per quanto riguarda l'accuratezza e la precisione abbiamo un movimento che è regolato su ben sei posizioni eppure non essendo ufficialmente dichiarati dei dati si parla di uno scarto giornaliero rientrante tra meno 1 e più 1 secondi alla settimana talvolta di più 2 secondi alla settimana l'unico punto debole di questo calibro è il suo diametro ben 30.6 mm che lo rendono inutilizzabile in casse con diametro inferiore ai 43 mm non resta che parlare del cinturino che è fissato alle anse tramite viti un tessuto tecnico imbottito e molto spesso che vede il lato interno foderato in pelle in modo da evitare abrasioni a contatto con il polso viene definito letteralmente come in tela vela presumo sia un minimo idro repellente per lo meno al tatto sembra esserlo curiosa la chiusura del ployant in quanto piuttosto articolata e apparentemente non smontabile non sostituibile con fibia ed ardigliore per regolare la lunghezza occorre svitare una vite imperniata nel foro del cinturino la sicurezza è garantita ma occorre svitarla ogni volta che si desideri cambiare lunghezza e il taglio così largo risulterà ammaccato già alla prima regolazione se non si presta estrema cautela possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali orologio che non mi fa impazzire nel senso io riconosco che è bello io riconosco che è ammaliante io riconosco la qualità che è pregno di storia che eccellentemente costruito tutto quello che volete ma non mi ha fatto innamorare non mi fa innamorare manca quello scalino coito interrotto probabilmente gli preferisco la versione batiscaff che ha finiture differenti ma non tanto per la qualità delle finiture perché la qualità c'è sia qua che nel batiscaff è proprio la tipologia no tutto lucido non mi fa poi così impazzire con quelle poi incisioni sotto al fondello semplici sulla corona semplici non è che mi fa impazzire tantissimo un punto debole poi che si può anche imputare è l'antiriflesso sul vetro in certe situazioni ci sono un po troppi riflessi qua e là non è poi così efficiente come ci si aspetterebbe è strano poi anche la chiusura con quella vite lì che va svitata per regolare il centurino è un pochino una rottura di maroni dicendola in francese no tutte le volte devi stare a svitarla riavvitarla chiaramente si rovina ma si poteva fare diversamente sì secondo me sì comunque orologio eccellente no fattura eccellente calibro superlativo che poi il suo fiore all'occhiello proprio bello il calibro ma potrebbe piacere a voi potrebbe piacere ad altri a me un po meno no sapete che sono un po strano come gusti io ho detto la mia voi dite la vostra ognuno scelga con la propria testa non fa rima ma ha ragione boh mi sembra di aver detto tutto non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video e l'orologio e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica musica